poi sempre dei dream dice ho quasi 19 anni cacchio giovanissimo ci sono che sia così quest'anno faccio la maturità e frequento un liceo artistico secondo te è possibile trovare lavoro senza un diploma tecnico e soprattutto che percorso mi consigli conosco le basi te, puoi dire tu? ah sì io ci lavoro quindi la risposta è sì l'importante è che tu abbia moltissima passione e moltissimo sì assolutamente sì nel senso che tu ci lavori senza un diploma tecnico? non ho capito? allora sì nel senso io ho preso un diploma in elettrotecnica ma sì no vabbè ma cioè io sono stato ce l'avevo detto in precedenza bocciato, rimandato ho avuto un percorso cioè mi hanno cacciato dalla scuola quindi la risposta è sì quello che studi a scuola nel bene o nel male non preclude assolutamente la passione quindi la risposta è sì assolutamente 19 anni e tutto il tempo di imparare a voglia peraltro facessi qualche salto indietro probabilmente anch'io spenderei diversamente il mio tempo ai tempi però vabbè ormai parlo da veterano da vecchio consumato cosa vuol dire codice legacy? allora codice legacy è codice boh come definirlo? vecchio? codice come dire che sta nelle aziende che hanno fatto un prodotto che sta lì magari da anni è stata lì da molti anni quindi si chiama codice legacy è un codice che fa funzionare le cose che magari ha molti anni che sta lì e che ha bisogno di essere mantenuto un esempio per tutto è il codice legacy delle banche ancora S400 come si chiama? in COBOL una roba di 30 anni fa quello lì si chiama codice adesso arriva Luca Piccinelli magari magari si dice grandissimo Luca grandissimo Luca si oh questa è bella lamentati da sviluppatore programmatore quando e come si acquisisce ci sono linguaggi che aiutano più di altri a svilupparla? allora qui io ieri Gabriele l'ho anche messo sulla chat di Tomorrow Deaths ho trovato un talk di cioè ho trovato mi ha dato un talk di sei anni fa dove c'era proprio cioè il titolo era come pensare come uno sviluppatore e c'erano diversi punti che io dico cioè noi diciamo spesso in realtà tutti quanti però poi sentirli da qualcun altro che non sei tu fa un altro effetto e quello che mi è rimasto di più almeno dalla parte introduttiva poi non ho ancora guardato tutto mi riprometto di guardarlo è che per imparare la programmazione cioè pensare come uno sviluppatore non è mai una questione di codice neanche mai una questione di linguaggio è sempre un problema di cioè scusa è sempre una questione di come ti approcci i problemi cioè se tu riesci a metterti nella nella stessa linea di pensiero di una macchina che da un certo punto di vista è stupida perché vuole che tu gli dici esattamente che cosa devi fare passo dopo passo e concepisce solo degli uno e degli zero dei sì o dei no fai questo altrimenti fai questo altrimenti fai questo o questo questo allora ti è molto più facile entrare in quella mentalità poi che ci siano dei linguaggi che siano un po' più semplici per scrivere del codice con pochissime nozioni questo è indubbiamente vero ma non è sicuramente il linguaggio che ti aiuta a sviluppare la mentalità è esattamente l'opposto perché il linguaggio diventa se viene sviluppata questa tipologia di approccio quella che è la parola l'etimologia una lingua una lingua con cui comunicare con un'altra entità in questo caso l'entità è una macchina quella macchina capisce solo delle informazioni strutturate in un certo modo il linguaggio ti aiuta a comunicare quelle informazioni questo è un po' il mio quindi il quando e come si acquisisce in realtà è cioè non c'è un quando c'è se vogliamo dire un quando è dal momento in cui inizi a risolvere problemi a confrontarti con le problematiche a fare pratica allora da lì affrontando le problematiche in maniera logica quindi senza neanche scrivere codice al limite arrivi a scrivere pseudocodice stai sviluppando questa mentalità che ne pensi? assolutamente sì la mentalità del programmatore ce l'hai secondo me aggiungo una nota molto pratica quando pensi alla programmazione e a tutta la frustrazione non pensi ai soldi che guadagnerai oh questo è bello quando pensi che vuoi fare questo lavoro indipendentemente dal guadagno perché non ti interessa guadagnare o quanto guadagnerai se sei disposto a giungere a questo diciamo stato mentale vuol dire che vuoi fare il programmatore se invece pensi adesso faccio il programmatore perché devo guadagnare i soldi mi sto zitto a giungere i soldi a giungere i soldi